La tensione è altissima in Tunisia, dove una nuova, brusca impennata di contagi da coronavirus ha preso di sorpresa il governo, costringendolo a misure drastiche. Lockdown generale già in vigore in quattro governatorati e coprifuoco alle 20 per tutto il paese. Ma il vero problema è negli ospedali, dove mancano personale e posti letto e le famiglie riferiscono a situazioni strazianti. Mia madre era nel suo letto in pronto soccorso con gli altri e hanno portato fuori leghe in condizioni critiche lasciando dentro gli altri. Il suo letto lo hanno dato a un altro paziente che non è un caso critico e mia madre l'hanno abbandonata come un cane su una sedia a rotelle e se ne sono andati. In questo ospedale di Cairo One i medici riferiscono il paradosso per cui si cerca di aggiungere posti letto senza ovviare alla carenza di personale. Il governo ha aperto una nuova sezione per i malati di coronavirus senza assumere personale medico e paramedico. Abbiamo solo lavoratori a contratto. Ricorriamo al reclutamento di lavoratori da altri reparti dell'ospedale. Abbiamo bisogno di mano d'opera più che di nuove attrezzature. Le attrezzature provengono dai donatori e i donatori sono importanti, ma le grandi attrezzature hanno bisogno di qualcuno che le usi e se ne prenda cura. Nell'ultimo mese in Tunisia il numero di contagi ha raggiunto i livelli giornalieri più alti dall'inizio della pandemia, mentre i tassi di vaccinazione, almeno secondo i dati diffusi dalla John Hopkins University, rimangono ancora bassi.